E alla fine il tanto atteso coup de théâtre c'è stato, il colpo di scena e che a palmi al ballottaggio il 25 giugno con Giuseppe Ranuccio non ci andrà Mimma di certo ma Francesco Trentinella, a meno di altre sorprese che potrebbero esserci, visto che la di certo ha annunciato che farà ricorso al Tarra per quanto è accaduto durante lo spoglio di domenica notte. La candidata, esclusa al fotofinish dopo il riconteggio, ha chiesto che venga fatta chiarezza su ciò che è accaduto, avendo sempre sostenuto e portato avanti insieme alla sua squadra di sostenitori il concetto di legalità, dichiarando inoltre di aver fatto richiesta ai suoi legali di preparare un'istanza da inviare al Tarra per invalidare i verbali. La notizia è giunta in tarda mattinata di ieri dopo che la commissione elettorale istituita al Tribunale di Palmi ha accolto la richiesta presentata nella mattinata dal candidato Trentinella, ossia di verificare che quanto riportato nel verbale definitivo compilato e siglato dalla commissione elettorale e quanto invece annotato nelle tabelle in fase di scrutinio nella caotica sezione numero 16 vi fosse congruenza. Congruenza che non c'era per via di un errore immateriale da parte del presidente del seggio nel trascrivere i voti totali. E così la commissione ha appurato che i 29 voti assegnati erroneamente alla candidata di certo erano voti di lista e non personali per cui in quel seggio la candidata data inizialmente per vicenda ha ottenuto 82 voti Francesco Trentinella 84 e Pino Ippolito 83. Ad incidere sulla decisione della commissione elettorale è stata la richiesta fatta da tutti i componenti del seggio 16 insieme ad una dichiarazione del presidente che ha ammesso di avere compiuto un errore materiale senza alcuna intenzionalità nel trascrivere i voti. I componenti del seggio numero 16 nella mattinata di ieri si sono recati spontaneamente in tribunale chiedendo alla commissione elettorale di prendere in considerazione la loro richiesta di confrontare il verbale con le schede su cui hanno segnato i voti in fase di scrutinio. Complice la stanchezza, ha dichiarato il presidente del seggio Carmelo Filippone, a nome di tutti i componenti abbiamo commesso un errore materiale e trascritto nella casella corrispondente ai voti del candidato a sindaco i voti delle liste. Si è così determinata questa situazione di caos per la quale ci scusiamo e ribadiamo la nostra assoluta buona fede. Lavoravamo quasi da 27 ore, si giustifiche il presidente, ed eravamo stanchi. L'errore non è stato voluto.